E' successo sempre al reparto Colloqui, è qui che gli agenti hanno intercettato e bloccato una donna con oltre 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo Ashish, pronta per essere ceduta ad uno più detenuti. Piano fallito, grazie al fiuto degli agenti, quali hanno effettuato una perquisizione personale all'interno dell'auto della donna e successivamente nella sua abitazione con l'ausilio della NIR della Polizia Penitenziaria di Napoli. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo in quanto priva di revisione nonostante una prescrizione. All'operazione ha preso parte anche la Polizia Municipale. Si tratta di un ottimo risultato ottenuto grazie alla professionalità e abbenegazione del personale della Polizia Penitenziaria in servizio al settore Colloqui, attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento e di soli pochi giorni fa un ennesimo tentativo d'intrusione. La droga in quel caso era stata ben occultata nelle cuciture di un pantalone, un pacco postale partito da Napoli e diretto nella struttura di via Cardito, a spedirlo anche in quel caso un familiare di un detenuto. Circa 60 involucri contenenti sostanza stupefacente accuratamente confezionata. Il direttore della casa circondariale arianese, Maria Rosaria Casaburo, si è congratulata nuovamente con gli agenti per l'ottimo lavoro svolto. Grazie a tutti.